Con lo slogan «Sei amata da Dio, sei amato da Dio» si è svolto sabato 13 e domenica 14 maggio il Weekend della Riforma, organizzato dalle chiese valdesi del primo distretto a Pinerolo. Due giornate dense di momenti di festa, di convivialità, riflessione e di incontro, dedicati al cinquecentenario della riforma protestante. Gazebo, banchi di presentazione e promozione, punti di riflessione teologica e di dialogo con il pubblico, sono stati allestiti nei giardini e nei locali del Tempio Valdese e in via Diaz, chiusa al traffico per l'occasione. Il sabato è stato dedicato a gruppi di discussione su quattro temi dedicati alla riforma protestante, colorato dalla festa di canto delle scuole domenicali del secondo e terzo circuito. Molto partecipato il culto della domenica mattina, con la presenza di membri di diverse chiese delle valli, che per l'occasione erano stati invitati a confluire a Pinerolo per condividere un momento di riflessione e preghiera. Il culto, condotto a tre voci dai pastori Tomassone, Genre e Pasquet, ha offerto una sorta di libero dibattito sui concetti del perdono, della libertà e della grazia, rievocando le dispute pubbliche in voga ai tempi di Lutero.